Stiamo mettendo le basi per un grande progetto, l'obiettivo primario è quello di costruire un settore giovanile importante con dei giocatori in prospettiva, abbiamo scelto penso uno staff tecnico di grande qualità, poi alla fine sarà il campo, il vero giudice di tutto, noi siamo abituati a far parlare il campo quindi aspettiamo con ansia l'inizio della nuova stagione calcistica. Si partirà da una buona base di giocatori perché in questi anni ho visto parecchi profili quindi qualcuno già arriverà alla corte del Matera sperando che possa fare il salto di qualità perché l'obiettivo nostro è quello di poter prendere i giocatori per poi darli in società di serie A e serie B. Noi non vogliamo stravolgere un po' tutta la situazione però è normale che se viene qualcuno da fuori di qualsiasi parte d'Italia che ci può alzare il livello tecnico, ci può alzare la qualità, ci può dare una mano, noi siamo ben volentieri accetti a questa situazione quindi comunque sia, valutiamo tutto, valutiamo.